Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova lezione di Excel Facile. Oggi continuiamo ancora a parlare dei grafici, però parliamo di un tipo di grafico un po' particolare, il grafico Sparkline. I grafici Sparkline sono piccoli grafici inseriti all'interno di singole celle di un foglio. Infatti, è possibile inserire un grafico Sparkline in una cella vicina ai dati che rappresenta, mostrando così delle tendenze in una serie di valori, come per esempio incrementi o decrementi stagionali o cicli economici, oppure evidenziando i valori massimi e minimi. Vediamo insieme questo esempio che ho preparato per voi. Abbiamo questa tabella dove abbiamo nella colonna alcuni prodotti che la nostra azienda vende, dopodiché abbiamo il fatturato per ciascun prodotto che è stato generato nei mesi di gennaio, febbraio e marzo. Ora, poniamo di voler creare qui accanto, nella colonna E, una piccola rappresentazione grafica, molto semplice, che mi mostri, appunto, graficamente, l'andamento delle vendite dei miei prodotti. Possiamo farlo attraverso il grafico Sparkline. Come fare? Andiamo nel menu Inserisci, andiamo qui a destra, anzi a metà più o meno, dove abbiamo proprio i grafici Sparkline, clicchiamo sulla frecciolina e, in questo caso, inseriamo un Instagram. Si apre questa finestra. Che cosa ci dice? Ci dice di selezionare all'inizio, quindi nella prima riga, l'intervallo di dati che Excel deve considerare per generare il nostro grafico Sparkline. Quindi andiamo qui, clicchiamo sul quadratino e selezioniamo i dati che deve, appunto, considerare. In questo caso, da B2 a D6. Dopodiché, riclicchiamo sul nostro quadratino e, a questo punto, passiamo alla linea successiva sotto, cioè dove Excel ci chiede di selezionare la posizione di destinazione dei grafici Sparkline. Io, in questo caso, ho già preparato qui la colonna E chiamata grafico, quindi, torniamo. Clicchiamo lì, in modo da poter selezionare le celle da E2 a E6. Ritorniamo qui e diamo OK. Perfetto, ve lo ingrandisco ancora un po', così si vede meglio. Che cosa è successo? È successo che, all'interno delle nostre celle da E2 a E6, Excel ci ha generato questo grafico istogramma, cioè, appunto, quello che ha le colonnine, che ovviamente, in questo caso, sono più dei rettangolini, più che delle colonne, perché le righe non sono molto alte, quindi si schiacciano. Però, che cosa ci rappresenta? Ci rappresenta graficamente i valori di ciascuna riga, cioè, nella cella E2 vengono rappresentati graficamente i valori che sono quelli che troviamo nella riga 2, nelle celle B2, C2 e D2. Infatti, possiamo vedere, ad esempio, che il primo valore è una linea sottilissima rispetto alle altre due, perché, infatti, ha un valore più basso, è 64.000. Febbraio 71, quindi, è un valore un pochino più alto, mentre marzo 87 è molto più alto rispetto agli altri due, quindi, possiamo vedere che Excel lo rappresenta con un rettangolino molto più grosso. Stessa cosa negli altri. Prendiamo, ad esempio, questa, la cella E5. Vedete che, quando io seleziono una cella del grafico, automaticamente Excel mi illumina quelle che sono le celle che lui considera per generare, appunto, il grafico. Quindi, ad esempio, E5, cosa mi dice? Mi dice che i primi due rettangolini sono più o meno identici, e, infatti, abbiamo un fatturato di 5.400 e 5.600. La differenza è davvero minima, quindi sono entrambi i bassi. Marzo, invece, è molto, molto più alto, siamo quasi a 30.000 euro, quindi, giustamente, vedete che il nostro rettangolino è molto, molto più grosso rispetto agli altri due. Quindi, il funzionamento più o meno è questo, appunto, mi rappresenta graficamente quello che sono i miei dati delle celle vicine, ovviamente, in questo caso, riga per riga. Quindi, io non sto analizzando i dati nel suo complesso, come avverrebbe, invece, con un grafico normale, ma io, semplicemente, qui posso analizzare riga per riga, oppure posso analizzare colonna per colonna. Infatti, la stessa cosa io la posso fare in verticale. Proviamo, ad esempio, mi posiziono, diciamo, nel foglio, riclicco su Inserisci, di nuovo Grafici Sparkline, Istogramma, nuovamente, come intervallo dati, selezioniamo sempre lo stesso, perché i dati originali sono sempre qui, da B2 ad D6, e, invece, per quanto riguarda la posizione di destinazione del grafico, selezioniamo, qui sotto, la riga 7, da B7 ad D7, e diamo OK. In questo caso, che cosa è successo? Se noi poi adesso allarghiamo, alziamo la riga, possiamo vedere che è un vero e proprio Istogramma. In questo caso, Excel che cosa ha fatto? Praticamente, per ogni rettangolino, rappresenta uno dei miei articoli per il mese di gennaio. Quindi possiamo vedere che il primo è gennaio per l'articolo AA001, che ha venduto per 64.000 euro, quindi la colonnina più alta. La seconda è sempre gennaio, però è l'articolo AA002, che ha venduto per 54.000, quindi un pochettino più bassa. La terza e la quarta sono, sempre gennaio, gli altri due articoli, AB203 e CC005, che hanno venduto pochissimo rispetto agli altri, quindi le loro colonnine sono veramente molto, molto basse. E' l'ultima, sempre gennaio ovviamente, per l'articolo DF005, che ha venduto 40.000, quindi un pochino più basso dei primi due, però comunque sempre abbastanza alto. Quindi il discorso del grafico Sparkline lo possiamo tenere sia a livello orizzontale, come abbiamo fatto qui, dove il grafico sta a destra e analizza i dati che sono alla sua sinistra, oppure lo possiamo mettere sotto per analizzare i dati che troviamo sopra. Quindi sono due concetti, il grafico Sparkline funziona in maniera un po' diversa rispetto a quello che era il grafico solito a cui siamo abituati, che abbiamo visto nelle lezioni precedenti. Una cosa interessante, si attiva come sempre qui un menu ad hoc, che è progettazione e grafico Sparkline. Vediamo che cosa possiamo fare. Innanzitutto possiamo modificare il percorso, cioè i dati che lui va a pescare, sia del gruppo, quindi modificandoli una volta solo, oppure del singolo grafico. Quindi in questo caso poniamo il caso che il grafico che io trovo qui in B7 deve avere un'origine di dati particolare rispetto a quello che è in C7 e in D7, e lo posso andare a modificare. Possiamo gestire come, possiamo anche decidere come gestire le celle nascoste e vuote, nel caso ce ne fossero, ci sono diverse opzioni. Possiamo poi scegliere di cambiare, invece che utilizzare l'istogramma, utilizzare un grafico a linee, che ci mostra sicuramente la tendenza. Può essere più comodo o meno comodo, dipende dalla situazione. Dopodiché abbiamo anche il grafico positivi o negativi. In questo caso per noi non funziona, perché sono tutti valori positivi, trattandosi di valori di euro. In questo caso avrebbe senso se parlassimo di incrementi o decrementi. In questo caso ovviamente vedete che non hanno senso, messo così rimane tutto positivo, quindi attenzione al tipo di grafico anche qui che utilizzate. Torniamo al nostro istogramma. Vediamo un attimo che cosa possiamo fare. Possiamo evidenziare in maniera diversa il punto massimo, che in questo caso è sempre la prima colonnina dei miei grafici qui sotto, è un caso. Possiamo colorare in maniera diversa e quindi evidenziare il punto minimo, che in questo caso cambia. Vedete, qui è il terzo articolo, qui è il quarto, qui è sempre il terzo. I punti negativi in questo caso non ce ne sono, perché sono tutti importi in euro, quindi abbiamo tutti i valori positivi. Il primo punto, l'ultimo punto, quindi del nostro elenco. Possiamo cambiare il layout, quindi il colore, lo mettiamo giallo piuttosto che verde e via discorrendo. Possiamo anche cambiare da qui il colore del grafico, per esempio un colore che non è, magari qui non c'è, e noi ne andiamo a selezionare un altro. Qui anche su altri colori possiamo scegliere il colore che vogliamo, quindi possiamo personalizzarlo al massimo. Dopodiché possiamo gestire il colore degli indicatori, cioè personalizzare con colori differenti scelti da noi, ognuno di questi punti che abbiamo visto prima. Quindi il punto negativo, però ora non lo metto perché tanto non abbiamo punti negativi. Il punto massimo lo voglio viola, quindi tutto il resto resta arancione, ma il punto massimo cambia. Il punto minimo lo voglio verde, di questo bel verde. Possiamo personalizzarlo in mille modi. Dopodiché, asse lo vediamo fra un pochettino, abbiamo annullare aggruppamento, che ci serve per considerare, quindi i grafici funzionano in questo modo. Questo è un singolo grafico. Questi, anzi, ora ho annullato il raggruppamento, mentre qui funziona ancora, quindi tutto insieme è un gruppo di grafici Sparkline. Uno è il grafico, quindi io li posso considerare tutti insieme, ad esempio se li devo personalizzare, posso personalizzare l'intero gruppo, oppure annullando il raggruppamento posso personalizzarlo singolarmente. Quindi ora questo grafico funziona da solo, perché l'ho annullato il raggruppamento che esisteva con gli altri due. Quindi ora questi tre che sono nati insieme sono separati, questi due sono un gruppo, questo è rimasto da solo. Quindi ora posso personalizzare questo, mentre vedete che gli altri due restano come sono. Mentre in questo caso, siccome è un gruppo, se io cambio una personalizzazione, ad esempio lo metto giallo, cambiano tutti. Quindi con annullare il raggruppamento, altro non facciamo che cancellare il gruppo di grafici, quindi rendere ogni grafico un grafico a sé. Dopodiché possiamo cancellare il singolo grafico o il gruppo di grafici, scusatemi, che abbiamo generato, quindi eliminarli dal foglio, farli sparire. Vediamo che cosa possiamo fare con il tab asse. Allora, abbiamo due opzioni, asse orizzontale e asse verticale. Per quanto riguarda asse orizzontale, la prima opzione mi dice asse generale. Con asse generale significa che ogni valore è uno dei punti del grafico o in questo caso una delle colonnine del grafico. Quindi noi qui abbiamo tre valori e vediamo rappresentate tre colonnine. Se anziché le colonnine noi utilizzassimo le linee, quindi il grafico a linee, e ci mettiamo gli indicatori, ok, così ce ne rendiamo conto meglio, almeno abbiamo visto anche quest'ultima opzione che prima non era visualizzabile perché funziona con i grafici a linee. Noi abbiamo tre valori, gennaio, febbraio e marzo, e abbiamo tre punti. Quindi il grafico prende in considerazione tutti e tre i punti. Perché? Perché abbiamo selezionato asse generale. Qual è la differenza rispetto ad asse data? Con asse data ogni punto dei dati viene tracciato in relazione a una data. Detto così è un po' un casino, quindi ve lo spiego meglio. Per farlo vi faccio vedere l'esempio 2. è un po' piccolo, ve lo ingrandisco per il momento, dopo lo rimpiccioliamo ancora un attimo. Qui abbiamo la giocenza del nostro magazzino per i tre prodotti, AA01, AA002, AB203. Ok. Abbiamo la giocenza per il mese di gennaio, dall'1 al 20 gennaio. Arriviamo. Per ciascun prodotto, vedete che abbiamo, il primo gennaio ce ne erano 5, poi ne abbiamo avuti 7, poi 4, 9, 12, quindi è un incremento-decremento, ogni giorno entrano dei prodotti in magazzino, escono dei prodotti perché li vendiamo, e quindi questa è la giocenza a fine giornata per ciascuno dei miei prodotti. Proviamo a creare un grafico Sparkline. Lo rimpicciolisco un attimo, così lo riusciamo a vedere. Mi sposto un attimo, tanto quello che ci interessa è qui in fondo. Quindi andiamo su Inserisci, Grafici Sparkline, creiamo un grafico a linee, facciamo così, selezionare l'intervallo di dati, quindi clicchiamo sul quadratino, andiamo nella nostra base dati, da B2 a, aiuto, U4, ok? Prendiamo tutta la nostra base. Molto bene, ora dobbiamo selezionare la posizione di destinazione, in questo caso sarà V2, V3 e V4, quindi ogni grafico occuperà una delle celle accanto. E diamo ok. Ve lo ingrandisco un pochettino, così si capisce meglio. Mettiamoci gli indicatori, ok, ve lo schiarisco così, gli indicatori saltano all'occhio, e rimettiamo lì neri, così, ok, adesso ci siamo. Che cosa vediamo in questo grafico? Possiamo vedere che, per ciascun, appunto in ciascun grafico, abbiamo l'andamento delle nostre giacenze, quindi da un punto, dal punto minimo, insomma, quindi qui ad esempio, rimpiccioliamolo un pochetto, così riusciamo ad avere forse tutti i dati sotto mano, e possiamo ingrandirlo un pochettino ancora. Perfetto. Ok, è sempre un po' piccolino, però, ad esempio qui avevamo 5, poi 7, quindi vedete che infatti la linea sale, poi scende a 4, poi risale a 9, 12, 12, e insomma, vediamo tutto l'andamento. Però potrebbe anche non interessarmi vedere proprio tutto l'andamento così specifico giorno per giorno, perché in questo caso ho 20 giorni solo di gennaio, se dovessi guardare un anno, mi verrebbe fuori un grafico che è lungo un chilometro, quindi sarebbe anche un po' eccessivo. Poniamo ad esempio che mi interessino solo alcune date di queste, per esempio quelle che ho riportato qui sotto, il primo gennaio, il 5, il 10, il 15 e il 20. Vogliamo vedere la giacenza ogni 5 giorni. Cosa possiamo fare? Torniamo nel nostro grafico, nel menu che si apre Progettazione, Asse. In questo caso, invece che utilizzare l'asse generale, utilizziamo un'asse data, che gli diamo noi. Quindi selezioniamo Asse data, qui dove abbiamo la linea bianca, andiamo a selezionare qual è il nostro asse, che è questo. Riclicchiamo qui e diamo OK. Come è cambiato il nostro grafico? È cambiato nel senso che le linee sono comunque, la linea segue l'andamento, però l'andamento della giacenza rispetto ai giorni che io gli ho chiesto di considerare. Quindi, il grafico è cambiato parecchio. Ad esempio, ora mi considera solo il giorno 1, quindi prendiamo la prima linea, mi fa vedere il 5, parte da 5 quantità, dopodiché sale a 12, poi sale a 13, che è quella del 10 gennaio, poi scende drasticamente a 5, e poi a 20, senza tenere però conto di quello che ci sta nel mezzo. Forse l'ultimo lo spiega un pochino meglio. Qui che cosa è successo? Parte da 26, dopodiché al 5 sono sempre 26, al 10 diventano 10 pezzi. Però in realtà, in mezzo a questo, abbiamo avuto un sacco di zeri, che però il grafico ora non ci mostra più, perché, anziché considerare tutti i valori della serie, come avrebbe fatto prima, utilizzando l'asse generale, ora, mi mostra solo quelli di un'asse particolare, cioè delle date che io gli ho chiesto specificatamente di considerare. quindi mi fa vedere l'andamento rispetto ai miei giorni che sono riportati qui. Quindi ha una serie di dati diversa. Quindi, in base al tipo di asse che voi impostate, ovviamente, cambia anche la rappresentazione grafica del vostro grafico Sparkline. Spero che questa cosa sia abbastanza chiara. Torniamo sul foglio 1, così vediamo un attimo le ultime opzioni che sono rimaste. Mostra asse, che anche però, in questo caso, in realtà, non ci serve molto, perché in realtà mostra asse ci fa vedere l'asse ed è utile quando abbiamo valori positivi e negativi, in modo che ci fa capire dove sta lo zero, diciamo, quindi dove è l'asse, quindi quali valori sono al di sopra dell'asse e quali sotto. Dopodiché abbiamo traccia dati da destra a sinistra, cioè in questo caso mi inverte l'ordine del grafico. Quindi se io segno traccia dati, lo fleggo e do ok, vedete che è cambiato l'andamento, quindi è allo specchio, perciò il primo dato che trovo in realtà è questo di marzo, quello in mezzo è sempre febbraio in questo caso perché sono tre valori, quello più a destra è gennaio, quindi ha invertito l'ordine. Passiamo invece a quelle che sono le opzioni dell'asse verticale. Qui possiamo impostare qual è il valore minimo e il valore massimo, cioè se tenerlo automatico per ogni grafico Sparkline, uguale per tutti i grafici oppure personalizzarlo. Cosa significa? Facciamo un passo indietro, torniamo a un histogramma, così forse è un pochettino più chiaro. Lo allarghiamo un po', alziamo un attimo le righe così ci aiuta a capire meglio. perfetto. Qui come funziona? Qui mi dice il valore più alto è il primo. Ah no, scusate, siamo ancora invertiti. Reinvertiamoci di nuovo e torniamo alla versione originale. Perfetto. Qui mi dice il primo valore è bassissimo, 64.000 perché poi cresce a febbraio, infatti la nostra colonnina è un pochino più alta e poi marzo altissima perché è 87.000 super alta. Passiamo invece a questo, ad esempio, E5. Qui mi dice bassissimo 5.400 a gennaio, 5.600 a febbraio e altissimo 29.000. Che cosa significa? Significa che le altezze delle colonnine, in questo caso, quindi il valore minimo e massimo, lui lo calcola per ogni tipo di, per ogni grafico. è ovvio che l'altezza di questa colonna che è a 29.000 non è paragonabile all'altezza di questa colonna che è a 87.000. È ovvio che se utilizzasse un valore minimo e massimo costante per l'intera selezione il valore più alto sarebbe questo 87.000 quindi questa colonnina qui di destra dovrebbe essere super alta rispetto a tutte le altre. Invece possiamo vedere ad esempio che questa è altissima comunque eppure sono solo 40.000 cioè ben la metà rispetto a questa. Questo perché? Proprio perché è al momento stiamo utilizzando torniamo qui nel menu asse stiamo utilizzando un valore minimo e un valore massimo automatico per ogni grafico quindi ogni grafico va se il valore minimo e massimo sono calcolati sulla base dei dati che lui utilizza per creare il singolo grafico quindi in questo caso appunto il grafico che sta in E6 è calcolato su B6 C6 ed E6 punto gli altri numeri non li prende nemmeno in considerazione se noi invece mettessimo che il valore minimo e il valore massimo deve essere uguale per tutti i grafici Sparkline proviamo a dare un ok come è cambiato è cambiato che tutti i valori piccoli ora hanno una lineetta piccola perché viene universalizzato il discorso del valore minimo e massimo quindi ad esempio guardiamo questo non importa se 5000 è molto più alto di 2 cioè praticamente è il doppio quasi è circa anzi un pochino di più del doppio ma non importa ma la differenza fra la colonnina la prima e la seconda e anche la terza di questo grafico è davvero minima perché? perché rispetto ai valori che sono complessivamente contenuti all'interno della nostra base dati questi valori sono davvero dei valori piccoli quindi invece questi nonostante abbiano comunque una certa differenza perché tra uno e l'altro abbiamo anche il 10% di differenza in realtà la loro graficamente la loro differenza delle colonnine che rappresentano il grafico Sparkline è minima perché comunque sono valori molto molto alti e nel complesso sono molto vicini tra loro non so se questo è chiaro lo riguardiamo ritorniamo su verticale assi verticale e riproviamo con automatic quindi ora guardate bene che cosa stiamo guardando ridò un ok e vedete come cambia di nuovo quindi quello che stavamo parlando prima è questo vedete da 2003 a 5600 questo è bassissimo questo invece è altissimo rispetto all'altro e infatti graficamente il grafico ce lo mostra mentre uniformando il valore minimo e massimo all'intera all'intero gruppo di dati quindi all'intero gruppo di grafici quello che noi visualizziamo graficamente è completamente diverso quindi attenzione dipende che cosa dovete fare come sempre come immagino ormai abbiate capito in Excel non esiste una cosa giusta e una cosa sbagliata tutto è giusto dipende dalle vostre necessità da quello che dovete rappresentare da quello di cui state parlando dall'argomento e dalle vostre appunto da quello di cui avete bisogno quindi potete utilizzare come asse come valore minimo e massimo un automatico quindi ogni grafico sparkline va a sé oppure utilizzare valori minimi e massimi uguali o personalizzati per esempio io posso mettere che il mio valore minimo è meno un milione di euro il mio valore massimo è più un milione di euro il mio grafico cambierà radicalmente ma non è sbagliato è sicuramente giusto anche questo ripeto dipende da che cosa dovete rappresentare graficamente bene per quanto riguarda i grafici sparkline direi che abbiamo detto praticamente tutto come sempre vi ricordo che questo file lo potete scaricare nella descrizione trovate il link per fare il download del file così potete esercitarvi provare cancellare rifare eccetera come sempre vi ricordo di lasciarmi commenti scrivetemi se avete suggerimenti se avete bisogno di chiarimenti insomma per qualsiasi cosa io rispondo praticamente sempre cerco di rispondere in fretta ci provo insomma al massimo entro qualche ora come sempre vi ringrazio vi aspetto settimana prossima per la prossima lezione credo che sui grafici ci siamo detti più o meno tutto se mi viene in mente ancora qualcosa però ne parliamo la prossima settimana quindi vi ringrazio e vi auguro una buona settimana ciao 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 Grazie a tutti.